salve a tutti amici di youtube in questa meditazione vi chiedo di mettervi seduti comodi su una sedia con la schiena dritta ma senza sforzarla troppo chiudete gli occhi lentamente e concentratevi sul vostro respiro la meditazione della fertilità e sia per gli uomini e le donne che vogliono avere un figlio per prepararsi mentalmente spiritualmente e biologicamente con questa meditazione alimenteremo il principio della fertilità e chiederemo permesso ai nostri antenati in maniera simbolica per ricevere la loro benedizione la fertilità è la capacità di un essere vivo di produrre o sostenere una progenie numerosa questo è il risultato dell'interazione di vari fattori come biologici l'età lo stato di salute il funzionamento del sistema endocrino e molto altro la fertilità è una qualità dell'uomo e della donna e possono avere diversi tipi di ormoni nel corpo il centro della fertilità si trova nello stesso posto dove gli indiani visualizzano il secondo chakra ovvero sotto l'ombelico nel centro dell'addome per questo motivo questa meditazione si concentra in quella parte del corpo consiglio logicamente di visitare uno specialista per seguire un controllo clinico di questo processo e durante la gravidanza adesso andremo a realizzare la meditazione della fertilità facciamo tre respiri profondi inaliamo l'aria dal naso esaliamo l'aria dalla bocca ancora ancora una volta inaliamo l'aria dal naso esaliamo l'aria dalla bocca adesso respiriamo normalmente ora visualizziamo i nostri genitori i nostri nonni i nostri bisnonni se l'avete conosciuti vediamo le loro facce sentiamo la grandezza delle loro vite adesso gli diciamo ho il desiderio di dare vita così come voi avete concesso a me per favore vi chiedo di guardarmi con dolcezza quando avrò un bambino ora visualizziamo il nostro addome come il centro della nostra fertilità vediamo come una luce della misura di una palla di color verde cresce nel nostro interiore nel nostro addome e aumenta di intensità ad ogni respiro che facciamo ad ogni respiro che facciamo diciamo a noi stessi sono fertile e ad ogni respiro adesso per alcuni minuti continuiamo a ripetere quando inaliamo sono fertile e quando esaliamo il mio desiderio è dare vita ispirate ispirate sono fertile ispirate il mio desiderio è dare vita ispirate sono fertile ispirate per alcuni minuti il mio desiderio è dare vita Sono fertile, il mio desiderio è dare vita. Grazie a tutti. 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 Bene, adesso è giunto il momento di tornare. Quando sentirai il numero 5, aprirai gli occhi lentamente. 1, 2, muovi lentamente le braccia, le mani. 3, 4, muovi lentamente le gambe, i piedi. 5, apri gli occhi, completamente rilassato. Se vuoi scoprire il corso per aumentare la pace interiore e ritrovare la felicità, clicca nel link qui sotto in descrizione o qui nello schermo. Iscriviti al canale per moltissime altre meditazioni, audioipnosi e molto altro.